Passiamo al lavoro della giornata. Chiamo Pio Ricibitti che inizia con il suo ricordo di Augusto Palmonale. Prego. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Io devo solo richiamare in poco tempo le tappe fondamentali dell'esperienza di Augusto. Prima di entrare nel merito dei dati curricolari vorrei però sottolineare che questa giornata in suo onore è un omaggio affettuoso soprattutto che le persone con cui ha lavorato in momenti diversi nell'arco di circa 50 anni intendono dedicargli manifestando pubblicamente la loro stima, la loro gratitudine, per questa storia comune. Vogliamo parlare di Augusto come studioso, come ricercatore, come animatore. Mi trovo a svolgere qui un ruolo che ho già svolto circa 12 anni fa quando ci ritrovammo a festeggiare i suoi 70 anni. Lo faccio con piacere perché Augusto è stata una persona di riferimento importante per la mia vita personale, professionale e accademica. Potrei dire che insieme è stato maestro, collega e amico vero. Svolgerò la mia presentazione facendo riferimento ad una descrizione puntuale, dettagliata, il più possibile, del suo curriculum da cui emerge il percorso accademico e professionale di Augusto, cui fa da sfondo la vicenda di quel gruppo di persone, allievi e collaboratori, che hanno promosso l'iniziativa di oggi. Di quel gruppo sono stato il primo ad incontrare Augusto 53 anni fa, grazie al comune e amico e collega Gianni Casadio, anche gli scomparso. Per questo svolgo questo compito. Augusto è nato a Dimola nel 1935, è stato nominato professore straordinario di psicologia sociale presso la facoltà allora di magistero dell'Università di Bologna nell'81 e ordinario presso la stessa facoltà nell'84. È stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età il primo novembre 2010. Si era laureato in medicina e chirurgia presso il nostro Ateneo nel 1960 e specializzato in malattie nervose e mentali presso sempre il nostro Ateneo nel 1963. È stato assistente volontario presso l'Istituto di Psicologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia diretto dal professor Canestrali dal 1961 al 1969, anno in cui fu nominato professore incaricato di psicologia sociale presso Scienze Politiche qui a Bologna. Essendo risultato poi, come già detto, vincitore del concorso a cattedra bandito nel 1979, fu chiamato come professore straordinario dalla Facoltà di Magistero, cui è sempre stato molto grato, e qui rimase come professore ordinario fino al 1996, anno in cui, al costituirsi anche per merito suo della Facoltà di Psicologia, optò per questa Facoltà, dove ha operato, ricoprendo anche il ruolo di decano, fino al 31 ottobre 2010. Durante la sua carriera ha ricoperto importanti ruoli istituzionali, fra i più significativi, ricordo, a livello non universitario, la direzione della Scuola di Servizio Sociale Ires di Bologna dal 1973 al 1977, e l'impegno nell'ambito del Centro Minguzzi per lo studio e la documentazione sulla storia della psichiatria e sull'emarginazione sociale della provincia di Bologna, trasformatosi poi in istituzione Minguzzi, che è fra gli enti patrocinatori dell'iniziativa di oggi. Fra quegli accademici, ricordo che Augusto è stato coordinatore del dottorato di ricerca in psicologia presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna dall'82 al 91 e dal 95 al 2000, direttore dello stesso Dipartimento di Scienze dell'Educazione nel triennio 85-87. Ha fatto parte della commissione istruttoria per l'istituzione del corso di laurea in psicologia presso il nostro Ateneo insieme ai professori Battacchi e Canestrari al Sottoscritto e della commissione istruttoria per l'istituzione della facoltà di psicologia con i professori Battacchi e Sarchielli. È stato inoltre direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca Università per la Pace e del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Vittimologia del nostro Ateneo. Ha svolto poi importanti funzioni presso associazioni, società e istituzioni scientifiche internazionali ne ricordo alcune, è stato membro del Comitato Esecutivo della European Association of Experimental Social Psychology dal 78 all'84, membro del Comitato Direttivo del Laboratoire Européen de Psicologie Sociale presso la Maison des Sciences de l'Homme di Parigi dall'83 al 2000. Ha organizzato e diretto la sesta Summer School dell'European Association of Experimental Social Psychology svolta sia a Bologna nell'86. Fra le esperienze di studio, ricerca e insegnamento presso università e istituzioni scientifiche estere ricordo soprattutto l'esperienza di Visiting Fellow presso il Counseling Centrum dell'Università di Leuven per vari periodi negli anni Sessanta. Invited Fellow presso la Van Lear Foundation di Gerusalemme per un semestre tra il 78 e il 79. Direttore d'Etudes Associés presso l'Ecole des Autetudes en Sciences Sociales di Parigi a più riprese negli anni 79, 85, 91, 93. È stato poi Visiting Scholar o Visiting Professor presso molte università estere. Ginevra, Oxford, Berna, Bruxelles, Linz, l'Università del Maryland, l'Università Autonoma Metropolitana di Città del Messico. Hanno oltre insegnato nella Scuola d'Estate del Dottorato Europeo sulle rappresentazioni sociali tenutesi a San Sebastian nel 98. Vanno poi ricordate le responsabilità e le funzioni di coordinamento nell'ambito della ricerca. Qualche esempio. Ha coordinato la famosa ricerca sul lavoro degli psicologi alla fine degli anni Settanta, cioè prima che nascesse l'ordine e in qualche modo il riconoscimento della figura professionale dello psicologo. Nell'ambito del più ampio progetto finalizzato del Consiglio Nazionale delle Ricerche sulla Malattia Mentale coordinato dal professor Misiti, direttore dell'Istituto di Psicologia del CNR. È stato poi responsabile del progetto di ricerca su comunicazione e interazione sociale, finanziato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche dall'81 all'88, responsabile di unità di ricerca nell'ambito del progetto Prevenzione della Tossicodipendenza, finanziato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche dall'83 all'88, coordinatore del gruppo nazionale di ricerca finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca su processi del sé e dell'identità dal 95 al 98, coordinatore del gruppo nazionale di ricerca, sempre del Ministero dell'Università e della Ricerca, su stili parentali e processi di socializzazione in adolescenza. Egli ha inoltre svolto importanti ruoli editoriali, fra cui vanno ricordati i seguenti. È stato membro del Consiglio Editoriale della società editrice Il Mulino dal 99 al 2009, membro della redazione del Giornale Italiano di Psicologia, editorial consultant dell'European Journal of Social Psychology, membro dell'editorial board di molte altre riviste quali Cahier del Psicologia Cognitiva, Social Behavior, Journal of Adolations, European Review of Social Psychology, Journal of Community and Unplied Social Psychology. È stato associate editor dell'European Journal of Psychology of Education, membro della redazione di Psicologia Clinica dello Sviluppo, membro del Comitato di Direzione del Giornale Italiano di Psicologia dal 2006, e infine fondatore e primo direttore della rivista Psicologia Sociale. Nella sua ricca produzione scientifica si è dedicato a numerosi temi di ricerca, coniugando strettamente il piano della ricerca teorica a quello dell'analisi empirica e ha contribuito alla definizione di un approccio scientifico ai contesti di interazione in cui si costituiscono le rappresentazioni sociali. Collaborando con prestigiosi centri europei e nordamericani, ha studiato il funzionamento dei gruppi sociali, la relazione tra gruppi, i processi di influenza e di costruzione dell'identità sociale, la psicologia sociale dell'adolescenza. Nell'anno 2010, a conclusione del suo percorso accademico, gli è stato conferito il titolo di dottore honoris causa dalla Faculté di Psicologia e Sciences dell'Education dell'Università di Ginevra e nell'anno 2011, l'Università di Bologna, su proposta della Facoltà di Psicologia, ha conferito al professor Palmonari il titolo di professore emerito in ragione dei suoi meriti scientifici, didattici ed accademici. Negli anni recenti, dopo essere stato collocato a riposo, Augusto ha continuato a coltivare il suo impegno di studioso, di animatore di iniziative scientifiche e culturali, di promotore di interventi in contesti sociali problematici, di esperienze di cambiamento nell'ambito di comunità locali, gruppi sociali, istituzioni. Ha continuato compatibilmente con le sue condizioni di salute a studiare e a scrivere, ricordo a questo proposito, il volume curato in collaborazione con Francesca Emigliani su Psicologia delle rappresentazioni sociali, pubblicato dal Mulino nel XIV, ricordo il progetto incompiuto, cui stava lavorando e cui teneva molto, di un volumetto semplice e divulgativo, che facesse capire a tutti cosa sia e quali scopi si prefigga la psicologia sociale. Ricordo, infine, due scritti, in qualche modo illuminanti, sul piano della riflessione autobiografica, pubblicati postumi, rispettivamente sul volume Pagine di Vita e Storia Imolesi e sul periodico L'altro. Ricordo l'impegno continuo attraverso il quale egli ha continuato a coltivare una rete di relazioni con persone e gruppi, a vario titolo impegnati nel volontariato per il cambiamento sociale in varie regioni italiane, fra cui Calabria e Puglia. Vorrei concludere il mio intervento sottolineando questa peculiare caratteristica di Augusto, ben evidenziata da Guido Sarchielli nella nota pubblicata sul fascicolo 4 del 2016 del giornale italiano di psicologia. Cito lo scritto di Guido Sarchielli. Intendo rimarcare un'istanza emancipatoria nel lavoro di Palmonari che può essere rintracciata nei suoi scritti e in molti momenti della sua esperienza pubblica e che consiste nella passione per il cambiamento dal basso, per la liberazione delle persone da una condizione di soggezione o di inferiorità di fronte ad altri individui o gruppi, a regole, artefatti istituzionali, condizioni di svantaggio e disuguaglianza, ovvero alle varie dipendenze situazionali che incombono sui progetti di vita delle persone e dei gruppi sociali. Si tratta di una connotazione etica fortissima che fa da filo conduttore a molta parte degli impegni anche scientifici di Palmonari e che direttamente o indirettamente egli ha trasmesso e che è stato con lui per molti anni come primaria espressione della sua generatività. Concludo con una comunicazione. La famiglia Palmonari ha donato il patrimonio librario di Augusto alla Biblioteca di Psicologia, sede di Cesena, per costituire un fondo librario a lui dedicato. È in corso la catalogazione che avrà una collocazione riconoscibile all'interno della collezione della Biblioteca stessa. Grazie.